Pronostici Liga Professional, il Newell's Diense sfida il San Lorenzo. Nella stagione 2011-2012 una comparsata alla Roma di Luis Enrique. Oggi il gringo Ense è l'allenatore del Newell's Old Boys. Che stasera alle 22, 30, in Italia, ospita il San Lorenzo. Partita dell'ottava giornata della Liga Professional. Il massimo campionato argentino. Liga Professional, fai il tuo pronostico su Newell's San Lorenzo. Newell's fin qui perfetto in casa dopo le prime sette giornate. Il San Lorenzo ha 16 punti in classifica contro gli undici del Newell's, 8 gol segnati e 7 subiti. Fin qui perfetto in casa dove ha vinto le tre gare giocate senza concedere gol a Barra Cassentrell. Banfield e Vélez. Fattore campo quindi da fruttare contro un San Lorenzo che ha costruito nel suo stadio il 75% del suo bottino di punti. Il campionato argentino storicamente è l'habitat naturale degli esiti no-goal e under 2. 5 e anche questo match, sulla carta, si inserisce in questo contesto. Tra i due paga qualcosa in più il no-goal. Per quanto riguarda l'esito 1x2 finale forse il pareggio a lasciarsi preferire. Virgola.